Gravi incidente stradale. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 19, lungo la statale adriatica, all'altezza dell'incrocio tra via Salara Statale e via Marti Linfantini a Cervia, due auto si sono scontrate frontalmente e una delle due, dopo l'urte, è stata scaraventata nel fossato all'autostrada. Quattro le donne ferite, soccorse da quattro ambulanze e due auto medicalizzate dai vigili del fuoco di Milano Marittima. Due donne sono state trasportate al bufalino di Cesena, una 34enne in codice 3 e una 52enne in codice 2, e in codice di media gravità sono state ricoverate al Santa Maria delle Croci di Ravenna una signora 60enne e una 26enne. Sembra che all'origine del sinistro vi sia stata la perdita di controllo di una delle due auto che, dopo aver superato l'incrocio, ha sbandato colpendo la seconda vettura.